Come vedete siamo già in fase di cantiere, in questi giorni partiranno gli scavi per il nuovo polo scolastico di Nardò. La scuola si sviluppa su due livelli, ospiterà più di 300 studenti. L'idea del progetto è quella di avere un civic center, un centro civico, con all'interno una grande corte sviluppata intorno all'atro e le funzioni comuni, con le classi ai piani superiori. L'interazione col contesto è l'elemento più importante con la scuola, infatti ci sarà un elemento a ponte che inserirà all'interno della scuola il percorso ciclabile del quartiere. Dalla scuola mi aspetto che ci sia una didattica più innovativa, più nuova, che si possa fare non solo le attività più normali, più regolari che si fanno solitamente, ma anche qualcosa di più extra, che ci siano delle didattiche più innovative, delle attività PON, delle attività digitali, comunque cose extra rispetto alle solite lezioni. Io le aspettative che ho su questa scuola, essendo un genitore, è quella che oltre ad essere un'opportunità maggiore per i ragazzi che frequentano, sia anche un'opportunità assolutamente innovativa per la collettività e per la comunità neretina, che avrà a disposizione biblioteca, palestra e potrà essere a disposizione di chiunque voglia come centro di istruzione e centro di studio. Grazie ai fondi PNRR il comune di Nardo è in grado di realizzare un progetto innovativo nell'ambito scolastico. Proprio qui alle mie spalle sono iniziati i lavori di una scuola innovativa, dove potrà ospitare in maniera sicura i suoi studenti, in maniera innovativa, ci saranno laboratori digitali, un teatro, degli spazi destinati alla comunità tutta, non solo nell'ambito scolastico ma anche questa scuola si pone l'obiettivo di essere un rinnovamento per tutto il quartiere. Grazie a tutti.